Raffaella Metrano, si correva tanto su quella fascia destra ma correva anche Carmelo Imbrani gli avanti un'esperienza indimenticabile, l'azzurro sia per tese per lui qua il tuo ricordo che ti lega a un giocatore che oggi si prova a ricordare sarebbe stato molto meglio averlo qui, vederlo in campo e sano ma sicuramente sarebbe stato bellissimo vederlo qui in mezzo a noi però tutta sta gente, tutti i colleghi che comunque hanno fatto parte della sua vita è la testimonianza di quanto lui comunque si faceva voler bene quindi il pensiero più bello va a lui, è triste come ricordo però vedere tutta sta gente fare una festa vuol dire che qualcosa ha lasciato Sei stato all'Ajuventus, sei stato a Napoli, hai girato tanto cosa ti lega ancora al Napoli che ti porta qui a questi eventi? Ti sentiamo spesso comunque parlare degli azzurri quindi significa che quel ricordo non l'hai lasciato soltanto tra i tifosi ma anche tu hai una fetta di Napoli nel cuore Vabbè, adesso ho cresciuto nel settore giovanile, ho giocato in prima squadra ho avuto l'onore di vestire questa maglia pure perché alla mia terra abito qui ed è sempre un piacere comunque partecipare a qualche manifestazione così dove comunque c'è anche il Napoli di mezzo Grazie Ciao Ciao Ciao